cari colleghi e cari colleghi ben trovati interveniamo oggi oserei dire quasi a gamba tesa e con estrema rapidità sul famoso decreto ristori io l'ho chiamato decreto ristoranti perché è stato pubblicato il 28 10 quindi poche ore fa è stato pubblicato sul supplemento dell'edizione straordinaria della gazzetta ufficiale e voglio intervenire desidero intervenire in questo momento non per farvi un quadro generale su tutto il decreto ma essenzialmente sulla problematica del nuovo fondo perduto e per andare a individuare quelli che sono molto rapidamente i requisiti per potervi accedere perché perché questi soggetti che godranno del del contributo saranno quelli che sono stati indicati che figurano all'interno dell'allegato 1 del medesimo del medesimo decreto ma con alcune caratteristiche i requisiti soggettivi sostanzialmente sono due la titolarità di una partita iva al 25 10 del 2020 e lo svolgimento come attività prevalente di una o più attività evidentemente incluse all'interno appunto di quello che ho già citato allegato 1 del decreto ad esempio gestione di ristoranti discoteche palestre piscine bar e questo però impone una riflessione attenzione bene perché per arrivare al fondo perduto è necessario come già fu nella prima edizione nella prima tranche del fondo perduto avere un calo di fatturato ecco il l'ammontare di fatturato ridotto e quindi la riduzione dei dei ricavi sotto certi aspetti e dei corrispettivi fa ancora però riferimento al primo decreto e quindi fa riferimento al differenziale che deve essere inferiore ai due terzi della montare del fatturato tra il mese di aprile del 2020 e il mese di aprile 2019 il che vuol dire sostanzialmente che per i soggetti che non hanno avuto il calo e quindi non hanno potuto godere del fondo perduto della prima edizione non potranno avere nemmeno il fondo perduto della seconda perché qui si fa riferimento a mesi a un mese diverso che è quello di ottobre sostanzialmente dal 24 il dpcm parla dal 24 sostanzialmente fino al 24 di novembre quindi abbiamo un un 30 giorni tra tra la fine di ottobre la fine di novembre ma qui si fa riferimento a questioni primaverili più che autunnali e questo significa che non solo vi è una rivisitazione di quello che è stato ma vi è anche un inserimento di nuove attività perché sostanzialmente nuove attività perché il riferimento è che al fatto che in assenza direi dei requisiti di fatturato saranno ammessi comunque a percepire il un tributo a fondo perduto coloro che hanno attivato la partita iva a partire dall'1-1 del 2019 ma come fu per la precedente sessione non avranno necessità del controllo del confronto della riduzione del fatturato l'accredito come è stato detto anche dal ministro dell'economia e delle finanze avverrà in maniera automatizzata sui conti correnti che sono già stati utilizzati nella prima nella prima tranche il lavoro verrà svolto dall'agenzia delle entrate e il tutto dovrebbe avvenire senza richiesta alcuna entro il 15 di novembre al contrario le nuove attività potranno presentare un'istanza seguendo una evidente procedura telematica e dovrebbero ricevere i fondi entro il 15 di dicembre perché vi è anche la situazione di una riapertura per coloro che non avevano presentato in prima in prima tranche la la richiesta quindi vi è una riapertura dei giochi ma non per la prima tranche solo per partecipare alla distribuzione di questa seconda possibilità il contributo come è stato per la prima per la prima occasione non concorrerà alla formazione del reddito del reddito d'impresa né del valore della produzione quindi sarà tax free e soprattutto i codici vi prego di fare attenzione a quella lunghissima elenco quella lunghissima lista di codici a teco che sono esattamente individuanti i soggetti ammessi al al beneficio e quindi alla capacità di percezione di questo di questo contributo il decreto stanzia anche e vi è da ricordarlo vi è da ricordarlo nuove risorse a favore del settore del del turismo che quindi avrà ad oggetto le agenzie di viaggio i tour operator e quindi anche l'ambito il settore fieristico e però anche in questo caso bisognerà fare riferimento a differenze e cali di fatturati corrispettivi tra il 23 di febbraio del 2020 e il 31 luglio del 2020 con un valore dei ricavi evidentemente che fa riferimento al medesimo periodo dell'anno precedente questo e questo è sostanzialmente in sintesi le problematiche del fondo perduto il nuovo del nuovo dl ristori e ribadisco dl ristoranti che insomma impareremo a conoscere e approfondiremo da qui in avanti e come sempre care colleghe cari colleghi buon lavoro